la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati partiamo con il mattino per la nostra rassegna stampa di questo lunedì 10 giugno andiamo a vedere la prima pagina l'apertura governo ultimatum di Conte l'avviso a Salvini e Di Maio dialogo con l'Unione Europea o Lascio oggi il vertice tra Premier e Vice intanto Tria i mini bot mai stati all'ordine del giorno ma sul debito vinceremo convinceremo Bruxelles poi il ballottaggio nei comuni svolta leghista in Emilia Avellino vittoria di festa e le toghe nella bufera il caso Palamara spacca la NM sfiduciata la giunta spostiamoci su centro pagina con lo sport la serie B Granata in 10 Venezia ha battuto i rigori Lottito attacca il sindaco Gioia Salernitana salvezza al fotofinish sempre su centro pagina la Napoli rovina crolla un albero salvo per miracolo un motociclista ferito al vomero da un tronco il giorno dopo la morte del commerciante ancora terrore a Napoli dopo la morte del commerciante Rosario Padolino travolto da pezzi di cornicioni in via Duomo ieri lungo via Cimarosa all'improvviso un albero si è schiantato sulla strada in quel momento stava passando un ciclomotore il tronco ha colpito la parte anteriore dello scooter si è salvato l'uomo alla guida trasportato in ospedale l'inchiesta tragedia in via Duomo controlli del comune nel mirino dei PM riscontri incrociati per far luce dunque sulla tragedia di via Duomo a Napoli si verificheranno in comune presso l'amministratore del fabbricato le pratiche relative alla condizione di pericolosità di taglio basso il colpo la rapina in mezzo al mare a Sorrento l'incubo dei pirati rubato un tender da 90.000 euro non hanno avuto bisogno di parlare bastato avvicinarsi allo yacht di proprietà di un imprenditore catalano in vacanza in Campania con un gruppo di amici e puntare la pistola contro il comandante e gli altri due membri dell'equipaggio e poi via in mare aperto a largo di Sorrento a bordo di un motoscafo al quale le forze dell'ordine stanno dando la caccia così sabato sera tre malviventi col volto coperto da passamontagna sono riusciti a rubare un tender del valore di circa 90.000 euro questa era la prima pagina del mattino andiamo a vedere in primo piano i ballottaggi la lega espugna Ferrara la destra ipoteca l'Emilia affluenza in forte calo la sinistra perde la città estense dopo 69 anni svolta padana anche a Forlì l'influenza dei grillini con il loro 6% al primo turno e la carta poi delle liste civiche sempre su questa pagina Livorno invece torna al PD dopo la meteora 5 stelle rimaniamo sempre sui ballottaggi in Campania festa al photo finish resa dei conti nel PD di Avellino tre punti di scarto ma crolla la partecipazione degli elettori lontano dalle urne l'elettorato della destra fuori dalla partita e dunque il centro-sinistra civico rimonta quello ufficiale attrazione PD e Gianluca Festa diventa il nuovo sindaco di Avellino il biologo 44enne già vice sindaco tra il 2009 e il 2012 ha sconfitto il rivale Luca Cipriano ribaltando l'esito del primo turno quando il competitor risultava in vantaggio di poco più di 3 punti percentuali trend invertito Festa si ha giudicato la fascia con il 51,52% dei voti contro il 48,48% di Cipriano di taglio basso a Versa la Lega non sfonda Alfieri conquista Capaccio a Casal di Principe bis del sindaco Natale il centro-sinistra vince anche a Capo a Nola e Casoria a Pagani torna Gambino lasciamo i ballottaggi cambiamo decisamente argomento parliamo di lotta all'evasione partite IVA 1,5 milioni a rischio accertamento pagelle fiscali al via fuori parametro il 40% dei lavoratori autonomi gli indici di affidabilità danno il voto ai contribuenti sotto il 7 c'è il controllo vediamo la buona notizia è che il software per la compilazione delle pagelle fiscali per le partite IVA è finalmente pronto quella cattiva è che stando alle stime elaborate dal SOS e la società per gli studi di settore un milione e mezzo di lavoratori autonomi non otterrà la sufficienza ma come funzioneranno queste pagelle con i nuovi ISA gli indici sintetici di affidabilità fiscale che quest'anno prendono il posto degli studi di settore verrà dato a ciascun contribuente un voto da 1 a 10 al contrario di come funziona a scuola per essere promossi sarà necessario ottenere però almeno un 7 gli ISA prevedono poi uno speciale regime premiale per accedere al quale è necessario conseguire un punteggio pari o superiore ad 8 in questo caso si ha diritto ad una serie di vantaggi burocratici chi invece riceverà un voto basso pari o inferiore a 6 oltre a non aver diritto ad alcun beneficio potrà subire controlli mirati da parte dell'agenzia delle entrate in quanto non risulterà affidabile sul piano fiscale a fronte del ritardo con cui è stato diffuso il software per la compilazione delle pagelle il ministro dell'economia Giovanni Tri ha firmato la proroga di 20 giorni per i versamenti relativi agli indici sintetici di affidabilità la scadenza è stata rinviata a lunedì 22 luglio tra i professionisti e le imprese in tutto 3,5 milioni le partite IVA che quest'estate dovranno fare i conti con il nuovo strumento passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno che apre con lo sport la rabbia e l'orgoglio Salernitana salva i calci di rigore Venezia in vantaggio con Modolo poi il cartellino rosso per Minale Granati resistono per 80 minuti Menichini e ora resto a Salerno centro pagina i ballottaggi il ritorno di Alfieri e Gambino il fedelissimo di De Luca conquista Capaccio il consigliere regionale si riprende Pagani il PD conferma Valiante a Baronissi e Canfora a Sarno ma perde nell'agro con Bottone e Russo e poi Salvati ha scafato il centrodestra al comando dopo a Liberti e sempre sul centro pagina violenza a Nocera risse e paura in pieno centro 18enne pestato con la mazza e ancora la cronaca incidenti a serre tragedia in moto muore a 62 anni sotto gli occhi degli amici lasciamo il mattino spostiamoci sulla città anche qui l'apertura è dedicata ai ballottaggi sindaci tre municipi al PD nell'agro è svolta a destra Alfieri a Capaccio Canfora si riconferma a Sarno e Valiante a Baronissi Gambino torna leader a Pagani Salvati guiderà Scafati dopo lo scioglimento e poi gli sconfitti Voza perdente malgrado Siga e a Russo non basta l'appello di a Liberti centro pagina la grande nave Granata demolisce la laguna impresa della Salernitana Venezia resta in dieci fatica ai supplementari e vince ai rigori conquistando la permanenza in B confermato Menichini ma i tifosi non fanno festa al termine della gara ed è già scontro con la società il retroscena rivincita amica il giorno da eroe e poi la polemica del presidente Lotito Zucchero e quei tanti gufi di lato Postiglione moto contro il muro Bikers perde la vita e no c'era inferiore la movida violenta rissa per una donna di taglio basso Salerno macchina rotta niente esami oculistica del Ruggi paziente attende da mesi potrei avere un tumore da quattro mesi chiama in vano all'ospedale Ruggi per prenotare un esame ecografico al fondo oculare ma la risposta dall'altro capo del telefono è sempre la stessa il macchinario è rotto il paziente ha bisogno di eseguire una visita di controllo molto importante per scongiurare l'insorgere di un tumore spostiamoci ora su cronache l'apertura il PM maresca asta la vista 2 l'inchiesta della procura di Napoli sulla fallimentare sotto la testata invece i ballottaggi Capaccio Baronisse e Sarno al PD Gambino vince a Pagani e Salvati a Scafati centro pagina lo sport salvezza di rigore ora basta Minala si fa espellere Michai diventa protagonista Lotito attacca tifosi il sindaco Napoli e la città di lato l'intervista operare senza trasfusioni la tecnica del primario Puzziello Castel San Giorgio Gaetano Cataldo spiega la divisione nei 5 stelle di taglio basso troppe assunzioni a Salerno pulita l'inchiesta della Corte dei Conti rivelata da Repubblica il periodo va dal 2013 al 2017 con la gestione di Barbato e questa era crona che con cui chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio riprendiamo con le pagine del mattino vediamo come sono andati i ballottaggi in provincia di Salerno partiamo con Capaccio Pestum Alfieri fuochi d'artificio vittoria per Palumbo nella città dei Templi passa lo straniero da oggi al lavoro per i tanti problemi irrisolti dicevano che sostenermi era come dare voti alla camorra un'offesa alle persone per bene l'avversario Bozza popolo sovrano l'esponente del PD subito un governo dopo 5 mesi di commissariamento e quindi un vero e proprio tifo da stadio con tanto di coppe e fuochi d'artificio accolto a Capaccio Pestum l'arrivo di Franco Alfieri davanti alla sede del comitato elettorale poco prima di mezzanotte a un'ora dall'inizio dello spoglio era già netta la vittoria contro l'avversario atteso da una folla talmente numerosa da occupare anche la strada è stato acclamato applaudito e lanciato in aria Franco Alfieri è il nuovo sindaco della città dei Templi al ballottaggio ha ottenuto 6.221 voti e una percentuale del 53,58% è sempre su di lui di taglio basso sindaco dei record e re delle fritture Franco conquista il suo terzo municipio fedelissimo di De Luca a suo fianco alla regione dove mancò la candidatura l'unica sconfitta alle politiche 2018 nell'88 risultò il più giovane nel 2012 il più votato ora divide con sgarbi il primato italiano dei centri governati lasciamo capaccio pessum spostiamoci a pagani gambino a mani basse governerò col cuore sindaco per la terza volta dopo le vicissitudini giudiziarie a bottone non riesce la rimonta farò dice un'opposizione intelligente alberico gambino e per la terza volta sindaco di pagani non ce l'ha fatta il sindaco uscente salvatore bottone a rimontare lo svantaggio accumulato al primo turno contro il consigliere regionale a votare sono stati poco meno del 54,17% degli aventi diritto per un totale di circa 15.910 paganesi numeri al ribasso rispetto al primo turno del 26 maggio quando a votare erano andati circa il 73% dunque 5.000 elettori in meno rispetto al primo turno ma appena il 50% della popolazione votante ha preferito astenersi e non partecipare al ballottaggio intanto alberico gambino si gode la festa lui e i suoi fedelissimi sono tornati alla guida di palazzo san carlo dopo 8 anni di patemi inchieste giudiziare scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni camorristiche assoluzioni sconfitte e nuove vittorie elettorali rimaniamo sempre sul mattino e sempre sui ballottaggi scafati il dopo a liberti si chiama salvati nuova pagina il candidato di lega fratelli d'italia vince il testa a testa con russo sarò il sindaco di tutti rispetto per le opposizioni l'avversario del pd vittoria sfiorata lavoreremo per la nostra città l'ex primo cittadino vota con la moglie spostiamoci ora a Baronissi e Sarno Baronissi Valiante la rivincita io contro le ammucchiate confermato dopo la sfiducia vinco per concretezza e valori gli auguri dello sconfitto Galdi faremo un'opposizione costruttiva la rielezione dunque dopo veleni e polemiche al rivale non basta il sostegno di Moscatiello e Siniscalco Sarno invece Canfora fa il bis è il successo della ragione il primo cittadino parla agli elettori dal balcone davanti alla casa comunale successo sofferto ma ancora più bello abbiamo battuto l'indifferenza e la presunzione i nostri avversari ha detto Canfora non ci hanno risparmiato nulla lasciamo la politica e i ballottaggi passiamo alla cronaca Movida violenta pestato con la mazza da baseball paura in centro a Nocera il branco aggredisce un diciottenne la rissa ripresa dalle telecamere denunciati tre giovanissimi l'ennesimo episodio di violenza scuote la Movida nella città di Nocera inferiore intorno a luna della notte scorsa con le strade colme di persone un gruppo di giovanissimi si è reso protagonista di una violenta rissa ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni di Nocera che dopo essere stato rincorso è stato pestato prima a mani nude e poi con una mazza da baseball in metallo tra le persone denunciate a piede libero il giorno dopo la richiesta di tanti cittadini residenti è unanime serve più sicurezza il centro di Nocera inferiore è abbandonato durante i weekend ancora cronaca schianto a Giffoni gravi due ventenni incidente stradale a Giffoni Valle Piana ferita una coppia di giovani entrambi ventenni del posto erano in sella ad una moto una BMW che si è scontrata con un'auto una Fiat grande punto lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio in via Andrea nella frazione Chieve di Giffoni rimaniamo sempre su questa pagina ladri a cava messi in fuga dai poliziotti lasciano i picconi per forzare la cassaforte danno frutti gli appostamenti organizzati dopo la lunga scia di furti nelle frazioni volevano asportare la cassaforte da un appartamento a cava dei Tirreni ma i poliziotti del servizio volante hanno impedito che il colpo andasse a segno i ladri sono fuggiti e gli uomini del commissariato diretti dal vicequestore immacolata concia hanno ritrovato nell'abitazione due piccone e diversi attrezzi usati dai malviventi di taglio basso perde il controllo della moto impatto fatale contro il muro curva pericolosa un 62enne di portici muore sotto gli occhi degli amici sulla statale 19 una curva la moto che diventa ingovernabile il muretto che si fa concreto all'improvviso è una serena domenica da turista su due ruote si trasforma in tragedie ciò che è avvenuto ieri mattina tra Postiglione SR dove ha perso la vita un 62enne di portici intorno alle 11 di ieri mattina lungo la statale Francesco Ponticelli a bordo della sua motocicletta insieme ad altri compagni di viaggio un viaggio però che diventa drammatico lasciamo il mattino diamo un'occhiata a cronache andiamo a battipaglia lascio Forza Italia ma non questa maggioranza consigliare posizioni politiche inconciliabili il consigliere Gerardo Zaccaria ha annunciato il suo addio alla formazione berlusconiana dopo incomprensioni con i vertici e l'ongo scelta dell'antipolitica imperante il casus belli sarebbe la nomina di Tucci a capo del gruppo azzurro di taglio basso ricoverato Lapadula incidente in moto l'ex ballerino di Amici rassicura tutti via social sto bene incidente in moto per il ballerino Alessio Lapadula allievo di Amici di Maria De Filippi nella quindicesima edizione dunque è stato vittima di un incidente però ha rassicurato tutti sta bene andiamo avanti sempre su cronache Atena Lucana incidente stradale ferito un bebè di tre mesi il sinistro si è verificato sabato pomeriggio sulla strada provinciale 19 immediati i soccorsi dunque un sinistro si è verificato nel pomeriggio di sabato attimi di paura e di apprezzione si sono vissuti a causa della presenza di un bambino di soli tre mesi nell'abitacolo di una delle due auto scontro è avvenuto all'altezza della provinciale 19 ad Atena Lucana Scalo due vetture una che si metteva sulla strada l'altra che procedeva in direzione sud si sono scontrate su centropagina terremoto politico a Sant'Arsenio l'assessore Bricella si dimette dalla carica in una nota polemica c'è anche l'addio alla maggioranza consigliare dopo settimane di malumori si è concretizzata ieri sabato mattina la decisione che cade come una tegola sul sindaco terremoto dunque nell'amministrazione di Sant'Arsenio Bricella ha presentato le sue dimissioni abbiamo detto una tegola è caduta sulla testa del ormai ultradecennale sindaco del comune di Sant'Arsenio dopo settimane di malumori Bricella si è dimesso lo fa per incomprensioni con la maggioranza e sottolinea che la sua decisione è irrevocabile sarò consigliere indipendente scrive nella lettera al comune e poi una lettera ai cittadini in cui chiede scusa dopo due anni di amministrazione con il mio modesto contributo ho cercato di risolvere le sorti del nostro amato Paese ho constatato che mi sono trovato in una compagine di persone per bene che vogliono spazio per poter amministrare per il bene dei cittadini poiché ho prevaricato con la mia voglia di fare di risolvere i problemi anche incompetenze che non mi appartenevano mettendo gli altri componenti fantasma di questa amministrazione in condizioni di non poter operare per il vostro bene quindi un'altra stoccata mi sono dimesso per far spazio a chi in questi anni mi ha sempre accusato di quali interessi aveva avuto per il mio tanto impegno verso il nostro Paese e queste erano le pagine di cronache con cui termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.